Marco Travaglio, impostiamo un aspetto che forse è più importante storicamente rispetto al fatto importante comunque di questi giorni della drammatica radicalizzazione della questione all'interno del Movimento 5 Stelle. Tra 5 Stelle e Partito Democratico è iniziata una sfida che ha per posta evidentemente il primo posto all'Europa del 25 maggio perché se no non si spiegherebbe una fiammata continua e improvvisa come quella che c'è stata e che ha avuto una prima fase forte nel famoso incontro in streaming tra Renzi e Grillo e poi tutti gli episodi che si sono susseguiti con cadenza pressoché quotidiana è evidente che le due parti si annusano come i veri duellanti, fermo restando il ruolo attendista e di parcheggio che ha in questo momento Berlusconi. Beh sì, lì bisognerebbe capire fino a che punto ci prendono i sondaggi perché non è inutile ricordare che un anno fa, poco prima di un anno fa, alla vigilia delle elezioni politiche il PD era dato sopra il 30 e i 5 Stelle erano dati intorno al 18, poi si andò a votare e presero gli stessi voti e cioè intorno al 25. Adesso i 5 Stelle sono dati abbondantemente sopra il 20 e il PD è dato intorno al 30 e quindi se esistesse ancora quell'elettorato restio a dichiarare il suo voto ai 5 Stelle ai sondaggisti o se a volessere essere maliziosi i sondaggisti ritoccassero i loro sondaggi, voglio dire in Italia si scopre sempre che è tutto fasullo quindi si potrebbe anche scoprire quello, chi lo sa, vista la poca aderenza dei sondaggi ai risultati elettorali, certamente quello che dici tu avrebbe un senso e cioè io credo che adesso al di là dei numeri che possono essere due punti in più o due punti in meno il tracollo dei 5 Stelle che i partiti avevano sognato mettendosi tutti insieme e relegandoli all'opposizione in realtà non c'è stato, anzi c'è stata esattamente la reazione opposta, cioè ci sono molti che vedendo la partitocrazia stringersi in un abbraccio spesso indecente e a volte anche un po' mortale, insomma si sono sentiti vagamente nauseati proprio per la ragione che dicevo prima, cioè è stato troppo forte lo strappo rispetto alle aspettative elettorali, cioè veramente nessun elettore del centro-sinistra ma nemmeno nessun elettore del centro-destra poteva immaginare di vedere i propri rappresentanti andare a governare con quelli che in campagna elettorale si erano trattati non da avversari ma da nemici e quindi è inevitabile che vedere i nemici che continuano ad andare amorevolmente d'accordo, adesso poi siamo al paradosso e Berlusconi ama Renzi addirittura più di molti esponenti del partito di Renzi, come si è visto l'altro giorno con l'abbraccio applauditissimo fra Letta e Bersani e invece gli applausini abbastanza gelidi del PD ai discorsi parlamentari di Renzi, insomma anche questo vuol dire qualcosa, è evidente che si può mentire spesso ai propri elettori ma non si può mentire sempre ai propri elettori perché poi ovviamente se ne pagano le conseguenze.